Casetta esce sconfitta dalla seconda trasferta consecutiva, una partita persa di misura 86-80 su un campo difficile contro Montecatini, chiude questa settimana con il turno in presettimanale con la seconda sconfitta consecutiva, una partita che Casetta ha approcciato benissimo, si aspettava un po' tutti una reazione dopo la partita persa in malo modo a Cassino ed è arrivata una risposta da Casetta, nonostante abbia giocato in una condizione di formazione rimaneggiata visto che l'impossibilità di schierare Asic, quindi il coach Luisi si è dovuto un po' inventare le rotazioni degli interni e proponendo anche qualcosa di nuovo, cioè quindetti un po' sperimentali con tanti minuti da giovani e in più proponendo una zona 3-2 adattata che ha dato dei buoni risultati. Casetta è stata brava ad approcciare questa partita che era abbastanza complicata sia per gli strascichi della partita di Cassino e sia perché l'affrontava senza un giocatore importante come Asic ed è partita benissimo, ha giocato un primo quarto quasi stratosferico in cui ha ottenuto il massimo vantaggio su più 11, su 23, a 12, in pratica a 3 minuti dalla fine del primo quarto per poi grado a me di perdere questo vantaggio quando coach Luisi ha dovuto un po' mischiare carte cercando di attingere dalla panchina, da cui ha avuto pochissimo in pratica se andiamo a vedere come sono stati ripartiti i punti Casetta ha avuto un apporto clamoroso da Lucas e questa è una buona notizia da Memedovic e da Sergio ma ha avuto pochissimo dagli altri giocatori ovvio che una partita del genere la puoi vingere se tutti danno il loro contributo in questa partita qualcuno è venuto meno e poi alla lunga Caserta nonostante abbia recuperato tutti i break subiti da Montecatini è arrivata in pratica a 4 minuti alla fine sul meno 2, 76 a 74 lì sul time out chiamato dal coach di Montecatini è rientrata dal time out in maniera non ottimata ha subito due bombe e ha praticamente sbagliato l'attacco e perso una palla da lì Montecatini si è creato quel vantaggio di 8 punti che si è portato fino alla fine leggendo in positivo questa gara si possono raccogliere alcuni aspetti uno che Casetta ha reagito non era facile dopo la sconfitta di Casino due ha recuperato un Lucas Stratosferi che questo è un giocatore che mancava all'appello da diverso tempo tre è riuscita a supplire ad un'assenza importante come a Ezzic proponendo anche qualcosa di nuovo come la zona 3-2 che credo possa essere inserita anche in futuro e non solo in emergenza nel sistema difensivo di Caserta e diciamo l'aspetto negativo è che ci sono dei giocatori che avevano una grande opportunità per dimostrare il loro contributo però non hanno avuto il loro apporto in pratica Caserta ha giocato in 3-4 giocatori e in questi casi per giocare di sistema occorre che anche gli altri tienano il loro contributo però è chiaro siamo all'inizio è meglio focalizzarsi sui punti positivi per poi lavorare sugli aspetti che nel proseguo di questo campionato devono essere migliorati da Rosario Pascarelli è tutto un appuntamento con Goldweb TV per le prossime gare della Juve Caserta